Allora mister, partita difficilissima, sulla carta quasi impossibile, però si dice sempre, forse anche c'è un punto di verità su queste cose, che forse queste sono le partite più facili da giocare dal punto di vista mentale, psicologico, no? Sì, forse dal punto di vista mentale sì, perché si dice che non c'è nulla da perdere, è più difficile giocare dal punto di vista pratico, però potrebbe essere una lettura che ci permette di affrontare questa partita un po' più liberi mentalmente, però sapendo che andiamo a affrontare una squadra della quale tutti conosciamo la forza. Si riparte dalla buona prestazione contro il Biceia, naturalmente non basterà però quello per cercare di fermare il Lecce, bisognerà avere qualcosa in più, ci dica se magari sta preparando qualche trappola particolare per fermare il Lecce. Sicuramente la caratura dell'avversario, la forza dell'avversario, la qualità dell'avversario è nettamente diversa rispetto alla partita di domenica, quindi qualche accorgimento verrà preso, ora vediamo se ripassano col centrocampo a tre, abbiamo valutato una o due soluzioni anche in corso, però è normale qualcosa va adattato anche al sistema di gioco loro, però dobbiamo cercare di essere sempre propositivi soprattutto nella fase di non possesso, quella che ci ha dato fino ad oggi forse più garanzie di quell'altra, però dobbiamo pensare a noi stessi, ho detto anche ai ragazzi, continuiamo a giocare, continuiamo a pensare a noi, non pensiamo a Lecce, non pensiamo alla squadra che abbiamo di fronte, abbiamo intrapreso questa strada e dobbiamo portare avanti questa mentalità, poi io voglio che si giochi anche a Lecce, con i rischi che correremo perché ci saranno, però voglio che facciamo una partita dove la squadra gioca, come ha fatto tutte le volte che poi è andata anche fuori casa, anche nelle volte dove a caso mani poi abbiamo perso, vedi si raccuse, dobbiamo fare questo e basta. Inutile dire, insomma, il Lecce ha giocatori di qualità in tutti i reparti, tra l'altro ancora più rafforzato dal mercato invernale, quindi insomma bisognerà guardarsi veramente da tutti e undici i giocatori del Lecce. Sì, ma ti ripeto, io vorrei, il Lecce lo conosciamo tutti, sappiamo i grandi numeri che hanno fatto fino adesso, sappiamo le caratteristiche di tutti i giocatori che hanno il rosa, però dico andiamo avanti guardando noi stessi, guardiamo quello che abbiamo fatto, l'ottimo lavoro fatto in questi tre mesi e mezzo, con qualche caduta, come può accadere a tutte le squadre, mi riferisco alle due partite di Caserta e Reggio, però loro devono continuare a fare i grandi progressi che hanno avuto da un punto di vista non solo fisico, mentale, di unione di gruppo, insomma vedo una crescita anche in questo gruppo esponenziale per tanti motivi interni e anche da un punto di vista onestamente del gioco che c'è stato a tratti, a tratti un po' meno, però noi dobbiamo continuare a portare avanti questo bel lavoro iniziato cercando di avere un po' più di continuità, so che non è la partita migliore per poter esprimere la continuità, però abbiamo giocato un'ottima partita a Trapani, abbiamo giocato un'ottima partita a Catania e quindi speriamo di fare un'ottima partita anche a Lecce. Mister, sul piano delle scelte lei ha detto che ancora deve decidere se utilizzare un centrocampo a tre oppure affidarsi ai tre attaccanti, sembra però difficile dover rinunciare a Falcone che mi sembra dei tre lì davanti quello più in palla e poi le volevo chiedere se potrebbe essere una soluzione utilizzare il trequartista che abbiamo utilizzato spesso quando ci sono squadre che giocano con il rombo o comunque hanno un mediano più basso davanti alla difesa. Sì, guarda, quanto riguarda le partite, casomai nel 3-5-2 di Castellamare Gigi era stato sacrificato, parlo di Falcone, ma non è un sacrificio, è sempre noi, ormai questo tipo di calcio l'avete capito, cercare di adattarsi nella fase di non possesso alla squadra avversaria, per riuscire a cercare di essere il più possibile in una certa maniera per recuperare palla. Loro ormai hanno capito la mentalità di questa squadra, non è un'esclusione o due esclusioni che possono andare a intaccare uno spirito di gruppo che si è venuto a creare, che tutti hanno accettato specialmente dalla chiusura del mercato, da dopo la sosta, da varie scelte da un punto di vista proprio non solo tecnico ma anche morale, quindi chi ha accettato di rimanere da qua alla fine sa quello che sono quello che io mi aspetto da loro. Però è vero che noi abbiamo utilizzato sempre le due punte, le tre punte, due punte e un trequartista, dipende molto anche dalla caratteristica dei giocatori che loro avranno in campo, specialmente davanti. Qualche dubbio ne ho parlato anche oggi e ce l'ho fino alla fine. Non ho ancora deciso, ho uno o due dubbi ancora da togliermi, uno di quelli sicuramente è il fatto di tornare al centrocampo a tre o no. Penso che questa sia l'analisi della partita che andiamo ad affrontare. Mister, è giusto che tu ovviamente mantenga un profilo basso, è chiaro ed è giusto, però secondo me in cuor tuo sai che questa partita invece potrebbe anche arrivare nel momento giusto in quanto la tua squadra sta bene e peraltro insomma il Lecce per la legge dei grandi numeri prima o poi dovrà bloccarsi anche in casa, quindi insomma è una mia sensazione. Secondo me tu in cuor tuo sai che puoi andare a fare risultato. Ma guarda, sai la legge dei grandi numeri prima o poi esiste, però io penso, ho detto più una cosa giustissima che per me la squadra sta bene. Noi stiamo bene, stiamo bene mentalmente, stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto una settimana bellissima dal punto di vista della qualità del lavoro. Vedo un'aria cambiata, che questo non significa avere il risultato, però io gioco sul fatto che stiamo bene, stiamo capendo ancora di più anche per le caratteristiche dei giocatori che sono arrivati, quello che è un'idea di calcio. Ma ti ripeto, noi andiamo a fare la nostra partita, andiamo a fare molto serenamente ma molto convinti di quello che stiamo facendo, quello sì. C'è qualcosa che la spaventa in particolare del Leccio che in qualche modo guarda con più preoccupazione dal punto di vista della partita? Ma questa è una squadra che se la lasci giocare ti chiude, ti fa male anche perché ha trovato vari gol in varie soluzioni, nella qualità che ha, hanno sbloccato tantissime partite col tiro da fuori, con Euro goal di categoria superiore, cioè hanno talmente varia le caratteristiche che per poter far male agli avversari dalla qualità, dalla fisicità, dai calci piazzati hanno trovato parecchi gol dal tiro da fuori, dalle combinazioni nello stretto, ce ne sono tante. Noi dobbiamo cercare di sopperire a queste con quella che è però la nostra, è stata la nostra forza fino adesso, cioè io dico sempre intensità, la corso, l'aggressività e poi mettendoci quel pizzico di qualità che oggi riusciamo ad avere dopo che non l'abbiamo avuta per tanto tempo, quindi penso sia questa qui la, non è tanto quello che temi, dobbiamo cercare il più possibile di sopperire a queste loro qualità con le nostre che ci hanno portato in tante partite a fare bene. Due piccole cose per me per concludere, la prima è questa, il Lecce, un discorso un po' che va anche al di là di questa partita singola, il Lecce è un po' il modello a cui vorrà tendere immagino questa società, una società che vorrà vincere un campionato, credo che si dovrà arrivare per tratti a quello in cui adesso è arrivato il Lecce. Vorrei capire il tuo punto di vista dal punto di vista proprio generale, non dall'allenatore del Catanzaro, se è vero che insomma per vincere un campionato bisogna fare questo tipo di percorso. E poi l'altra cosa, te la chiedo subito, è questa, ne hai già parlato, insomma il mercato per te è soddisfacente, adesso si è chiuso definitivamente, quindi così rimane insomma questa piccola situazione un po' spinosa che è questa di Sirri, insomma come ritieni di doverlo gestire, insomma visto che ormai... Allora, guarda la prima domanda, penso che se Lecce dove accentra l'obiettivo quest'anno lo ha accentrato dopo tanti sacrifici e tanti fallimenti, fallimenti parlo da un punto di vista calcistico dove sono state anche spese, cifre importanti, un esempio, torniamo un po' indietro il benevento di Vigorito quanto ha speso in questi anni e poi ci è riuscito dopo un po'. Non so se questa è la strada giusta, perché non è detto che sempre spendendo tanto si vinca, però sicuramente io sono più sulla programmazione fatta giusta, fatta bene, facendo il tempo di crescere, però se non si spende è normale che è tutto abbinato, è una cosa che ha speso bene, forse meglio degli altri anni, per quanto riguarda noi abbiamo fatto un mercato intelligente, io volevo giocatori, non siamo andati su grandi nomi senza nulla togliere da quelli che sono arrivati, intendo nomi esuberanti o di chissà quale pedigree, quindi giocatori funzionali nel modo di giocare, quello che era anche un budget, perché è anche giusto rispettare quelle che sono state le indicazioni, ma su quello lì sono sereno, noi dobbiamo creare un sistema di gioco e un'identità, quei giocatori che sono arrivati la potevano farcela creare, ce l'hanno fatta creare o ce la faranno creare da un punto di vista morale e soprattutto anche tecnico, e quindi sono contento di quello che è stato il mercato, sono contento dei ragazzi che sono arrivati, adesso dobbiamo lavorare a testa bassa fino alla fine e fare il meglio possibile. La questione Sirri, ma guarda, io ho avuto un ottimo rapporto con Ale, per me è un giocatore molto forte, l'ho sempre detto, non sono qui a negare il contrario, penso anche, lui lo sa nei suoi confronti di aver avuto grande rispetto e di avergli speso anche sempre ottime parole, poi a volte non si capisce la fortuna che si ha ad avere anche un allenatore con certe caratteristiche, anche morali, poi ognuno fa le sue scelte, sono state fatte scelte diverse da parte sua senza starle a esprimere, quindi era giusto che un allenatore, una società andasse su un'altra direzione. Poi è stato l'integrato Sabato, un ragazzo al quale il gruppo vuole molto bene, un ragazzo applicato, un ragazzo che ha sofferto per questi mesi fuori, sta ripagando con le prestazioni che sta facendo. Penso sia stata una linea di condotta giusta, senza voler andare a offendere o a denigrare o a penalizzare nessuno. Sì, mister, un'ultima cosa ancora sul Lecce, ha acquistato un altro attaccante che io ritengo molto bravo, secondo te si riaffiderà Liberani ai soliti tre, diciamo? Infatti è quello che noi stiamo aspettando, di cercare di capire anche le caratteristiche di quelli che giocheranno davanti, tra infortuni, tra qualche problemino, dobbiamo cercare di capire questo per anche noi cercare qualche contromisura per andare a parare o la fisicità o la velocità che possono avere nel reparto offensivo.